Sarebbe stato difficile con una carica così non centrare l'ennesima impresa della stagione, battere trapani e volare matematicamente ai playoff. La meta extra viola Reggio Calabria non si è fatta pregare ed ha sfoderato una prestazione tutta grinta e cuore piegando la lighthouse con il punteggio di 79 a 71. Dopo un inizio balbettante ed un parziale di 10 a 0 per gli ospiti, Roberts e compagni hanno iniziato seriamente a giocare con l'intensità difensiva giusta e mettendo a segno, uno dietro l'altro, i canestri necessari a colmare il gap con i siciliani. Già avanti nel secondo quarto, con uno scatenato Chris Roberts, per lui 16 punti a referto a fine match, i nero-arancio hanno potuto contare anche sull'apporto decisivo di Patrick Baldassarre e Tommaso Carnovali in serata di Grazia. Decisivo anche il contributo del centro EJ Pecker, che però rappresenta la nota stonata del pomeriggio al pala Calafiore, per lui un brutto infortunio che lo ha costretto a lasciare il parquet sorretto dai compagni. Alla fine però anche lui festeggia con i 4.000 a Corsi al Pentimele in attesa della giornata odierna dove ci sarà la prima tappa ufficiale del caso Fidei Ussione e sarà lì che la Viola si giocherà davvero l'accesso ai play-off. Consolato Minniti per la CNews24.